A Stream Rules, Drew McIntyre contro Karrion Kross in uno strap match. I due atleti saranno legati da una cinta che non permetterà all'uno di allontanarsi troppo dall'altro. Sarà il primo vero test per Karrion Kross. Chi vince secondo voi? E chi fareste vincere se aveste in mano il potere di decidere? Le due cose possono essere divergenti, quindi qui sotto ditemi tutto e giustificatelo. Prima di andarvene però ricordatevi anche che di Stream Rules tra sabato e domenica durante la notte sul mio profilo Twitch ci sarà la live reaction. Quindi se vi va ci godremo il premium live event insieme.